Ciao a tutti ragazzi e ragazzi di Youtube, siamo qui per mangiare al parchetto un picnic serale, c'è qui il vostro amico Costa, poi c'è Bujatti e Cristina, cosa abbiamo da mangiare oggi? Allora cominciamo per da bere coca cola e dove è l'altro? La limonata e la limonata, poi abbiamo per dolce ma sì dai, due confezioni di choco sticks e no questo qua, poi facciamo i panini, una baguetta a testa, alziamo le baguette, tutte rotte perché delle ragazze insomma ce l'hanno, ce l'hanno rotte, tanto Cristina si è portato, no niente, poi abbiamo i booster, poi la maionese naturalmente per condividere questo momento speciale e i salumi e la birra, no la birra sì va bene anche la birra, poi c'è i salumi, un etto e mezzo di prosciutto crudo di parma e un etto e mezzo di salame che è sempre qua dentro, abbiamo qualcos'altro? Abbiamo finito le patatine, finito, fine dell'antipasto, ciao a tutti ci rivediamo dopo con la baguetta, le nostre imprese di mangiare i panini sono già cominciate da un bel pezzo, abbiamo già aperto i salumi, il prosciutto di parma e i salame, ah scusate posso dire una cosa, quel prosciutto di parma non l'ha fatto, non è di parma, parola di intenditore, stagionato 30 mesi, parma rezzo, ciao a tutti ci vediamo dopo siamo avanti con i tempi ragazzi, buiate quasi già finito il suo panini, la sua baguette, abbiamo un po' di tutto, io sono a questo punto, ragazzi non ho fame stamattina e stasera e adesso sta bevendo, Cristian sta bevendo, ciao a tutti, cin cin, benissimo, chiudo qua il servizio, grande Cristian, ciao ciao, saluto a tutti ragazzi ciò che rimane della nostra cena, scusate, nel zanzare mi date in bocca, c'è anche il drogato, eccolo lì, è il drogato questo qua, eh signor Cristian adesso che arriva lo spiegato di turno, buiati, vabbè, 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 v Grazie a tutti